Signore, signore, indovinare dove mi trovo? Indovinare dove mi trovo? Mi trovo in Uruguay. Queste due passeranno dei guai. Adesso chiederemo a questo signore. Hola. Scusa, io sono studiato nel corso dell'italiano della Nantena, a Viglieri in Colonia. In Colonia? Ti piace l'italiano? Mi piace molto. Ho capito, ma senti, ma... Io sono un vecchio, eh? Ma la migliore qualificazione del corso? E tu, parli molto bene l'italiano, ma... Mi piace. Ma tu conosci i calciatori uruguayani che hanno giocato in Italia? Eh, molti. Ti ricordi Carabaglio del Pisa? Carabaglio? Te lo ricordi? E dopo... L'AV italiano, del calcio italiano L'AV, della divisione L'AV. L'AV? La seconda divisione. Sì, chi? Carabaglio? Di qui, della città di Colonia. Boccacino. Boccacino, sì, Boccacino, che è nel Napoli. Sì, ma Carabaglio nell'82-83. Anteriore? Sì, sì, sì. Ma ora è vero che Carabaglio fa il tassista? Sì. Il guida... Sì? Sì, così o se è Montevideo fa il tassinato? È vero o no? È un'impresa di tassi in Montevideo? Sì, è vero? È vero. Ah, però lui è il capo? O no, è il guidatore? Il capo. È il capo? Il capo di... Di tutte le tassi di... Di una gremiale di tassi. Ho capito. Una presa. Mamma mia. Cioè, dal calciatore... Molta gente del calciatore del calcio dell'Italia ha ritornato per il nostro paese con molti soldi. Sì, sì, sì. Ma... E non è male della cabeza, della testa. Ti ricordi Fonseca con i dentoni grossi? No, il conejo. Il conejo, il conejo, il coniglio, il coniglio, il coniglio Fonseca. Sì, sì, sì. Sì, sì. È vero, è vero. Ma io sono ammiratore farriente dei vecchi calciatori della Selezione Azurra. E Schilaci. Ah, Schilaci. Vabbè, sì, sì. Schilaci. Io... Palavra maggiore. Io ero allo stadio nel 1990 a vedere Italia-Uruguay. Che l'Italia ha 2 a 0 per l'Italia. Io segno Schilaci e Serena. Il Sereno. Puntero. Io per trovare quel biglietto... Dovetti fare un sacco di sacrifici, di cose, perché era difficilissimo trovare il biglietto. Io sono di Roma. Andai all'Olimpico da solo per vedere l'altra partita d'Italia-Uruguay. Io sono di Roma. Io sono di Roma, sì, sì, sì. Quindi... Mi piace molto la canzonetta napoletana. Napoletana? Quale? Tutti i grandi tenori dell'Italia. Solo i miei. E allora, per il secondo anno, io voglio proponerle al mio compagno del corso un passicciato per l'Italia. Come no? Ti auguro veramente di vedere l'Italia. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Veramente. Va bene. Ciao, qualcosa? Sì. Sono io. Che fai? Sono io. Questo sei tu. Guida professionale. Ah, che fai la guida? Ho capito. Assessoramento per il turismo internazionale. Grazie. Grazie, di Colonia. La mia ufficina è piccola. Sì, sì, sì. Ma infatti ti ho visto prima alla stazione degli autobus. Nel Porto? Sì, mi ricordo. Sì, sì, nel Porto. Ma sto qua solo per qualche seura. Ma se avevo un passicciato per la città, il mio McClure è colto. Grazie. Catti un pochino di soldi. Però va bene, no, ma... Camminiamo. Grazie molte. Ciao. Ciao. Va bene. E questo è il loro. E questo è il loro.